68 anni dopo viene raccontata ancora una volta la storia riscoperta di recente di Santina Cannella. Marianopoli dunque rende omaggio alla giovane 15enne uccisa mentre tornava da scuola proprio l'8 marzo con una santa messa alle ore 16.30 nella Chiesa Madre e poi un incontro dibattito alle 17.30 in presenza di numerosi relatori, un evento organizzato dalle associazioni Onde Donne in Movimento, Galatea Ollus e il femminile politico Potere alle Donne. Anche il liceo Ruggero VII di Caltanissetta prevede un momento di riflessione per ricordare la giovane che era stata studentessa della scuola. Nel suo paese non c'era nemmeno la scuola media, i suoi genitori le avevano permesso di studiare a Caltanissetta prima alla media e poi al liceo classico, frequentava la quinta a ginnasio. L'8 marzo del 1954 viene uccisa, viene uccisa da un uomo più grande di lei di 10 anni, un suo compaesano che si era intestardito nel volerla sposare e sposare subito e voleva che lei interrompesse gli studi. Lei non intendeva seguire questo diktat, non intendeva nemmeno fidanzarsi con lui, voleva solo essere libera. Questa storia è stata per tanto tempo dimenticata, rimossa dalla memoria collettiva. Da pochi mesi è stata ricordata da alcune donne di Marianopoli, le associazioni femminili e la parrocchia, la chiesa madre di Marianopoli hanno voluto ricordarla e appunto l'8 marzo nel suo paese si parlerà finalmente, nuovamente di lei in un contesto in cui la violenza contro le donne fino alla soppressione della loro vita purtroppo continua e i femminicidi sembrano essere diventati il filo rosso che segna la vita di tante donne ancora oggi. 68 anni sono passati e però finalmente la sua storia è uscita anche dalla dimenticanza, forse da un lutto troppo violento per essere subito elaborato. Oggi finalmente anche il suo paese vuole riappropriarsi pienamente della sua memoria e del significato della sua scelta.